Il clima da campagna elettorale getto un alone sull'attività del Consiglio, l'ultima seduta va praticamente deserta e arrivano aspre e puntuali le critiche a bacchettare i consiglieri comunali di Messina, l'onorevole Sonia Alfano, commissario liquidatore di Tirreno Ambiente S.P.A., che interviene a seguito della mancata presa d'atto da parte del Consiglio della transazione sottoscritta tra l'ente e la Tirreno Ambiente relativamente a somme dovute dal Comune a titolo di avvenuti conferimenti di RS1 e le discariche gestite allora dalla società. La mancata presa d'atto da parte del Consiglio Comunale nella seduta svoltasi martedì sera della transazione per oltre 3.800.000 euro, già sottoscritta con il Comune di Messina, iscritta come secondo punto all'ordine del giorno dovuta all'assenza di gran parte dei consiglieri, scrive la Alfano, ha messo a serio risco la sopravvivenza della Tirreno Ambiente S.P.A. e conseguentemente numerose famiglie di lavoratori e lavoratrici che con scrupolo e coscienza pur tra mille difficoltà di ogni sorta hanno continuato e continuano a svolgere con grande dignità e abnegazione il proprio lavoro nell'interesse della comunità di riferimento. E' inaccettabile, scrive l'Alfano, la leggerezza con la quale taluni i consiglieri, non procedendo ad una semplice e formale presa d'atto che in vero sembrava essere un atto scontato e dovuto, hanno vanificato di fatto ed in un sol colpo mesi e mesi di lavoro, di incontri, di mediazioni, di confronti legali ed amministrativi, portati avanti dalle parti in causa con grande senso del dovere e per il grande senso di responsabilità. dovuto sia alla collettività di riferimento sia alle famiglie dei lavoratori della Tirreno Ambiente che si trovano in condizioni di assoluto sconforto e disperazione.